Marta Eleri, con l'enorme piacere sei di nuovo ospite di Edruria in TV, siamo qui a Bracciano in questa splendida cornice con il castello alle nostre spalle e tu stai per presentare il tuo libro, Il riccio e la castagna. Perché? Perché trovare queste due parole per racchiudere comunque un aspetto di una vita molto importante per te? Questo titolo contiene vari significati. Il libro inizia con un sogno, in cui la protagonista appunto sta lavorando, sta costruendo un riccio che gli viene rubato e dopo varie vicissitudini lo ritrova, anche se non proprio nella stessa forma con cui l'aveva costruito e l'aveva lasciato. Il riccio un po', diciamo, mi sento identificata in questo animaletto, sia perché è un animale che ama stare nei boschi, io sono piuttosto solitaria, sia perché è un animale riservato e schivo ma con un forte senso della famiglia come me. E anche il nome, il riccio e la castagna è il nome che ho dato alla mia casa quando ho deciso di cambiare vita e appunto sono venuta a vivere qui a Manziana. L'amicizia veramente è penso la cosa più importante che ognuno di noi può avere e nel caso di una grave malattia come quella che io ho avuto è proprio una rete di salvataggio. Marta, la mia avventura verso la guarigione è una frase che si può trovare qui in questo libro, ma ce la puoi spiegare? Inizialmente dopo il primo impatto di paura e proprio di panico ho cominciato a prendere consapevolezza che in parte la guarigione era nelle mie mani e quindi ho deciso proprio di affrontarla come un'avventura, cercando anche strumenti che mi consentissero di trovare dentro di me l'energia e la forza necessaria per guarire se non la malattia per lo meno la mia vita. Metto tutto in mattina e parto. Arrivare a Marina Chiara è un po' come tornare a casa. Questo è per me un luogo dell'anima. Quando cammino lungo l'aria e lì fino alla luce del rosa o a quella della luce, mi viene voglia di scrivere questo passo due giorni di completo relax, una bella passeggiata alla mattina presto, un po' di spiaggia, un passo frugale, un libro o un'altra passeggiata nel pomeriggio. E dopo la cena alla tedesca, Anna, appena tramonta il sole. Quando sarò in ospedale dovrò ricordarmi le sensazioni tattiche e quelle olfattive legate a questi due giorni di riposo, saranno di certo un appidio. Il vento fresco di tramontana, quello di evito che porta il profumo dell'erba scaldata dal sole, quello di maverine che muove l'erba alle fronte degli anni, il frusciare delle voglie che produce un suono morbido e ovattato come l'onda del mare che si infrage in piedi sulla mattigia. L'aroma del caffè appena uscito dalla moca, il profumo delle piante peniterranie sotto il sole, soprattutto quello dei chimie dell'erbisolo, il contatto dell'acqua dievita del mare sulla pelle e quello della sabbia morta da persone forti dell'estate che brucia la pelle. Mentre sono immersa in queste piacevole sensazioni, arriva la telefonata dell'ospedale. Dopodomani deve presentarsi qui alle 8, digiuna, domani, domani deve fare la preparazione che gli abbiamo scritto sul foglio. Va bene, la vacanza è finita. Abbiamo visto nel libro che spesso hai avuto il desiderio di cambiare anche località per cercare di trarre linfa vitale per affrontare la tua malattia. Sei andata anche all'estero? Sì, sono andata vicino a Monaco. Abbiamo un centro di pratica laico. Io seguo una meditazione buddista zen secondo la tradizione di Thich Nhat Hanh, un monaco buddista che vive in Francia, a Plan Village. Però a Interzain, vicino a Monaco, abbiamo questo centro di pratica laico e sono andata appunto quando dovevo decidere se e come cambiare vita e lì ho trovato proprio l'energia e la forza per farlo. Ho una fotografia che la ripetrae accanto a sua sorella, suo donato, suo figlio e me, nella cappella di San Raffaele dove era impoverata. Al piano è vestita con un ambito molto ampio e colorato e ha sottino nel naso attraverso il quale veniva alimentata da qualche mese. Lo sguardo è un po' stanco, ma ancora luminoso e privace. Ricordo che suo marito si occupava di lei in grande generosità, attento a ogni sua esigenza o desiderio. Più di una volta, Diana non costrinse a partecipare con lei a una fuga dall'ospedale per andare a contarsi qualcosa quando il tempo non piava a Roma. Quando andavo a trovarla, la trovavo sempre a scrivere o dipingere o intendere piccoli lavori di piccolare. Sembrava molto serena e questo non consentiva di riformulare ancora una volta il mio concetto di malattia, che si componeva in un'immagine più accettabile. Non era più quel mostro a nove teste che ripolava, spaziava e racerava senza speranza, ma un'entità con la quale si poteva scendere a parte, continuando a dare senso alla propria vita. malattia. Nella mia mente ci doveva essere qualcosa da qualche parte, la valuta, ma anche la confezione che prima e poi anche io sarei stata colpita dalla mamma. Che cosa vorresti consigliare alle persone, ai lettori che in qualche modo, come te, hanno vissuto, stanno vivendo questa malattia? È difficile dare consigli perché penso che ognuno poi debba trovare la propria strada. Sicuramente la frase che mi disse l'oncologo all'inizio di questo percorso è una frase che penso sia valida per tutti. E lui disse, signora, abbiamo un tunnel nero, una lunga strada da percorrere e l'esito di questo percorso dipende in gran parte da lei. Quindi io consiglio comunque di trovare tutte le energie dentro di sé possibili e soprattutto di aggiungere un po' di gioia in ogni giorno della propria vita. Quando si fanno le analisi, quando si fa la chemioterapia, quando si affronta un intervento anche difficile e sembra così a dirlo magari sembra che non si possa fare, ma invece basta semplicemente mettere un po' più di consapevolezza proprio nel momento presente. Una degli aiuti più grandi che mi è stato dato è in ospedale, un infermiere il giorno prima dell'intervento mi prese da parte perché io stavo piangendo e mi disse, ma tu adesso hai dei dolori, soffri? E io dissi, no, in questo momento no. Dici, allora tu preoccupati solo del momento presente che poi al resto ci penseremo noi. Marta, questa tua energia ti porterà a produrre altre opere letterarie? Allora, anche se su questo libro è stampata la parola romanzo, io non so, ancora non ho abbastanza fiducia in me stessa per pensare che questa sia un'opera letteraria. È un'esperienza, una testimonianza. io però scrivo da quando avevo undici anni. Con questo libro ho realizzato un altro sogno della mia vita. Uno era quello di andare a vivere in campagna, un altro era quello di scrivere un libro. E ho parecchie cose a cui sto lavorando. Marta, questo libro parte da un sogno. Qual è il tuo sogno da grande? Anche se grande vuole rispecchiare tante cose, affrontare i problemi della vita, anche a chi non ha avuto o non ha problemi riguardo a questa malattia. Il mio sogno in questo momento, alla mia età, a 56 anni, è quello di affrontare la vecchiaia e la morte. Perché spesso noi occidentali ce lo dimentichiamo, ma la morte fa parte della vita. e quindi affrontare la vecchiaia e poi il più lontano possibile naturalmente la morte è qualcosa a cui prepararsi con impegno. Grazie.